Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Turkens e benvenuti nel primo video guida della stagione numero 3 di Fortnite capitolo 2. In questo video andremo a vedere come portare a termine la missione che ci chiede di trovare gli gnomi ad alture accoglienti. Se questo video vi sarà utile vi invito a lasciare un bel like e con un commento fatemi sapere le vostre prime impressione di questa nuova stagione. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche di tutti i futuri video guida. E come ultima cosa se mi volete dare una mano con la crescita del canale potete farlo inserendo il codice creatore Turkens all'interno dello shop. Se andrete ad acquistare qualche skin e bootpack a voi non vi cambierà niente mentre a me vi darete una grossa mano. Se acquisterete qualcosa con il mio codice e me lo volete far sapere io vi posterò il vostro acquisto nei futuri video guida. Per farlo sapere vi basterà mandare una breve clip o uno segno sul mio account di instagram. Come detto all'inizio video però adesso andiamo a vedere come portare a termine la missione. Per portare a termine la missione ci dovremo lanciare la daltura accoglienti. Questa è l'isola che si trova davanti al faro. Una volta atterrati qui il primo gnomo lo potremo trovare dietro la roccia di fronte alla casa gialla. Il secondo gnomo lo troveremo sotto l'albero di fronte alla casa marrone. Mentre per il terzo e l'ultimo dovremo andare dentro il cottile della stessa casa. Qui davanti al bar ti succede un gnomo. Quindi amici spero che questo video vi sia stato utile. Come detto lasciate un bel pollice in su e con un commento fatemi sapere la vostra impressione. Per questo video è tutto e vi ringrazio per la visione. Ci vediamo al prossimo! Ciao!